Ciao a tutti ragazzi qua da Exta, oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online con nuove gare parkour oggi partiamo di notte con la Torero XO o però, non so come si chiama comunque partiamo subito allora, vediamo un po' vediamo un po' ragazzi, questa qui dovrebbe essere una gara parkour di notte quindi a tema specialissimo che bello, siamo morti tutti mamma mia cioè, siamo saltati veramente tutti in aria e sono partito in prima persona, perché non ha senso non ho idea ragazzi, non ho idea comunque, andiamo avanti allora, è notte, quindi tema veramente particolare cioè, ho giocato pochissime gare, credo ragazzi di notte ora, non so se si poteva settare di giorno non ho idea, comunque è notte, non so cosa dirvi allora, siamo morti tutti prima quindi inizio assolutamente spettacolare ovviamente come al solito e vediamo un po', perché la gara è appunto parkour infatti qui iniziano tutte le rampe allora, andiamo avanti con calma facciamo questa parte qua ok, perfetto ho toccato quello ma ci siamo e non vorrei che alla velocità purtroppo eh, niente ricompariamo ragazzi sono toccando quello non so se è toccando quello ma comunque sono andato fuori fuori rotta non so, direzione quindi ho sbagliato non sono riuscito ad arrivare nella rampa quindi ci riproviamo vai turbo rimaniamo centrali adesso ok, ora ci dovrei arrivare lì intanto c'è un gruppo avanti ah, ok sono riusciti a saltare tutti quindi andiamo con velocità qua perfetto che per poco devo dire ok continuiamo con calma calma, calma c'è gente dietro che che pressa stiamo calmi ok questa parte è andata ora dobbiamo fare una specie di salto in loop tipo quindi così girati subito ok perfetto questo ce l'ho ragazzi l'altro è volato quindi sono sì, sono in prima posizione ok nonostante quelli erano tutti avanti sono comunque riuscito poi a passare in prima allora calma perfetto e ora rifacciamo la stessa identica cosa quindi facciamo così ok perfetto comunque assolutamente particolare di notte ragazzi assolutamente particolare qui abbiamo un altro checkpoint dopodiché ci sono i cerchi infuocati rallentamento perché non lo so vai così oh 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 frena 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 ok perfetto andiamo un attimo indietro così riesco diciamo a fare anche adesso l'altra parte vediamo vai così calma calma c'è la mina vabbè tanto diciamo mi sto abituando già ero ero esploso prima all'inizio però quella magari era la pompa di benzina no qui qui invece ci sono le mine niente ricompariamo di nuovo mamma mia beh questa parte è un po' è un po' troll perché io voglio andare veloce però alla fine non c'è bisogno di andare veloce allora facciamo adesso quest'altra zona ok non c'è bisogno di fare tipo il flip là quindi andiamo con calma ragazzi ok perfetto altra zona fatta ora manca l'ultima ok perfetto queste qui sono riuscite a superarle ci sono sempre le mine e si vola ragazzi di nuovo andiamo di nuovo avanti qua con calma ok perfetto e si vabbè devo andare avanti ho visto la piattaforma sopra mi sono un po' mi sono un po' confuso sinceramente allora e si si devo andare avanti andiamo avanti a destra prendiamo il checkpoint e ora sicuramente infatti c'è la freccia che ci fa andare sopra quindi devo arrivare nella piattaforma che ho visto prima vediamo così ok c'è molta precisione in questa gara cioè anche proprio eh vabbè questa era troll non me l'aspettavo questo questo non potevo non potevo assolutamente prevederlo allora vediamo ragazzi rifacciamo questa zona qua quindi devo andare penso lì a destra poi niente ricompariamo di nuovo allora penso che in quel punto troll devo andare a destra sopra l'insegna con la freccia sicuramente penso proprio di sì penso proprio di sì ragazzi allora qua andiamo con velocità arriva lì sopra niente ricompariamo di nuovo eh come ho detto prima ragazzi ci vuole veramente molta precisione qui intanto è arrivato un compagno ci vuole molta precisione ragazzi per arrivare per arrivare nei vari punti in questa gara qua calma così frena 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 rimettiti bene subito ok perfetto allora vediamo perché io vorrei vorrei vedere l'altro compagno che viene trollato sinceramente quindi vediamo un attimo ragazzi vediamo vediamo se viene trollato vediamo se viene trollato secondo me sì vediamo eccolo qua trollato anche lui trollato anche lui e qua il troll però andiamo avanti ok perfetto ragazzi mamma mia è perché non si vedeva poi avanti cosa c'era comunque quello è stato ovviamente trollato ragazzi non c'erano dubbi ehm vabbè in realtà in realtà se devo essere sincero forse forse si poteva no vabbè difficili come fai a prevederlo non lo so non entrare nel cerchio ok perfetto prendiamo l'altro checkpoint si continua ragazzi in prima posizione ora abbiamo la stessa cosa però al contrario sembra sembra di sì quindi andiamo con velocità qua perfetto perfettissimo ragazzi e qua il troll non c'è però giusto ok perfetto il troll qua non c'è ora che si fa qua non lo so io vado con velocità ragazzi non non ho capito sinceramente quindi non ho capito cosa si deve fare qua allora o devo fare tipo il checkpoint è qui sopra quindi o devo fare una specie di curva a destra ma non penso perché ci dovrebbe essere qualcosa ok che devo fare qua ah ok va bene dobbiamo superare tipo queste altre zone qua va bene inizialmente pensavo si dovesse fare tipo una curva invece no questa parte l'abbiamo fatta continuiamo ora da quest'altra con calma ok checkpoint preso e ora ora da qui si continua con i vari salti con le varie rampe andiamo indietro vai così ok vai ancora perfetto qua e niente ricompariamo sono arrivato malissimo poi in quel punto allora intanto il compagno di prima che è stato trollato è arrivato comunque anche lui in quest'altra parte della gara allora questa la facciamo tutta con calma e arriviamo ovviamente al checkpoint e qua niente piccolo slalom vabbè comunque gara ragazzi assolutamente beh alla fine bella parkour cioè a parte la parte troll che non mi aspettavo comunque parkour assolutamente ragazzi tranquillo ok qua e vabbè tranquillo no tranquillo assolutamente no perché siamo saltati in aria prima quindi non c'è assolutamente nulla di tranquillo e qui mi sa che devo andare di lato per forza vediamo sì perfetto ok ora con calma arriviamo frena perfetto arriviamo in quest'altra zona e quello non penso che lì possa no ce la fa forse ce la fa ragazzi quello ah no perché si deve arrivare nella piattaforma sopra quindi no si deve per forza passare da queste specie di luci ora andiamo da quest'altra parte si arriva di nuovo al checkpoint che abbiamo qua ah ok c'è una specie di tunnel bello questo c'è un tunnel con delle antenne si ragazzi c'è un tunnel con delle io veramente vedo pochissimo al buio ok perfetto no non era un'antenna sono le cose dei tubi che incrociano pensavo fossero le antenne passa ora vai passiamo subito ok qua troll non ce n'è perfetto prendiamo quest'altro checkpoint albero di natale anche se natale è già passato da un po' e che abbiamo qua ok si scende giù nella piattaforma perfetto andiamo in retromarcia con calma retromarcia con calma ok qua diciamo c'è vabbè di solito questa segnaletica indica tipo il turbo che devi fare la porta in retromarcia però qua come fanno a mettere il turbo non lo so sono caduto comunque ricompariamo subito allora vediamo un po' vediamo un po' perché qui ovviamente perfetto quello sicuramente non si aspettava il mio arrivo non cadere fuori ok allora andiamo con calma ragazzi qua perché altrimenti sbatto davanti poi quello è caduto calma calma ok checkpoint preso continuiamo ora da questa parte penso che comunque la gara si ragazzi siamo arrivati comunque alla fine abbiamo un'altra zona di questo tipo quindi andiamo giù ok perfetto e ora ok ora si continua da questa parte prendiamo adesso l'altro checkpoint e si va si va ok stessa ma questa ok è la stessa zona di prima vabbè è la stessa zona di prima che si farà sicuramente allo stesso modo di conseguenza no quindi vediamo e vabbè è come è come la prima volta sono tornato indietro vediamo se riesco a recuperare tipo così niente ricompariamo non so perché questa zona a volte funziona a volte no forse devo andare velocissimo tipo così e no vedete torna indietro quindi devo devo andare invece piano penso ok quello mi ha superato vediamo se lui ce la fa ma non so penso sia un po' si lui ce l'ha fatta ragazzi perché è andato piano ah addirittura ok lui ce l'ha fatta facendo direttamente la curva che effettivamente è l'idea è l'idea migliore quindi adesso lo faccio anche io ragazzi faccio la curva così giustamente e arrivo tranquillamente qui allora facciamo quest'altra zona con calma ragazzi andiamo a prendere il checkpoint calma qua ok checkpoint preso niente praticamente ci sono pezzi di gara diciamo continui replicati copiati non lo so vai ok qui abbiamo il checkpoint e il turbo lo prendo nella sua direzione spero sia giusta ragazzi ok c'è il checkpoint praticamente in strada e credo sicuramente che dopo si arriverà il traguardo sicuramente ragazzi a mano che non ci siano troll anche qua ma comunque non penso andiamo a prendere il checkpoint ok manca l'ultimo e il traguardo perfetto quindi questa gara ragazzi è assolutamente assolutamente finita checkpoint preso e andiamo adesso a concludere la gara in seconda posizione vai ok perfetto ma devo dire bella gara ragazzi parkour abbastanza tranquillo poi ovviamente la parte iniziale è stata bellissima siamo saltati tutti in aria insieme felicemente devo dire e quindi quindi bella gara bella gara di notte credo di aver giocato pochissime gare di notte adesso però ne andremo a fare un'altra altra gara sempre ragazzi parkour almeno così dovrebbe essere 3 2 1 e si parte subito allora abbiamo quest'auto qui che non so non so ragazzi cioè non penso che ci siano dei cambi sinceramente dei cambi diciamo di auto quindi non credo sia transformer la gara quindi non cioè penso che faremo la gara ovviamente tutta con quest'auto qua che è piccolo piccolo blocco ragazzi però insomma gli altri sono riusciti a saltare male devo dire un po' male comunque allora non lo so ragazzi la gara è parkour però siamo partiti in questa zona diciamo sotto al monte Ciliad quindi sicuramente tra poco come oh perché è sbandato così non lo so stranissimo sicuramente come la gara di prima arriveremo tra pochissimo probabilmente alle rampe anzi si già qualcosa si vede comunque particolare è stata fatta tipo rally vai continuiamo ragazzi ad andare avanti verso le rampe verso qualcosa cioè quest'auto sbanda senza motivo sinceramente cioè vado dritto ma certe volte gira da sola non so non so per quale motivo veramente molto ma molto strana comunque allora si continua ad andare avanti e qui ragazzi iniziano iniziano le rampe vai 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 prendiamo subito ok mamma mia viene malissimo a guidarla vai così ok sono arrivato ragazzi nella piattaforma veramente una guidabilità stranissima ragazzi quest'auto è assolutamente strana allora adesso ok qui abbiamo una piccola zona che dobbiamo passare qui nel cartello vai perfetto ce l'ho fatta andiamo a destra la pallina ok la pallina si è spostata e si continua si continua allora anche qui dobbiamo fare ora il passaggio con il cartello mobile e poi arriviamo ragazzi al checkpoint perfetto ok questo checkpoint qui ce l'abbiamo allora lì vedo ci sono due tipo imbuti ah va bene qui devo andare a sinistra non l'ho visto completamente che davanti non c'era nulla ci sono due no ci sono tre imbuti ragazzi ci sono tre imbuti ok quindi sicuramente poi ci sarà una parte abbastanza veloce penso beh mi aspettavo per questa gara un insomma un auto super o almeno sportiva invece abbiamo quest'auto qui che devo dire è particolare qualcosa di diverso però è strana molto molto strana da da guidare allora sì qui andiamo dentro l'imbuto mi sa che l'ho preso piano sì sì niente devo andare più veloce ricompariamo devo andare più veloce per entrare ragazzi lì dentro e ah ma sono tantissimi questi imbuti qua comunque allora vediamo se ci arriva questa volta o niente cioè devo andare ancora più veloce allora mi sa che mi serve un minimo di rincorsa vai un minimo di rincorsa ragazzi adesso l'ho presa andiamo al massimo entra lì dentro ok questa volta ce l'abbiamo alla perfezione qua abbiamo un tubo vabbè c'entro così ok perfetto teletrasporto altro teletrasporto checkpoint preso che si fa qua perché quello è andato non lo so ragazzi io faccio faccio la curva non so perché quello è andato in retromarcia cioè non in retromarcia ma è andato proprio da un'altra parte non ho idea noi continuiamo perché effettivamente dice che il checkpoint è sotto quindi beh magari ho voluto vedere non era male l'idea effettivamente calma qua c'è mamma mia il razzo il razzo ragazzi già con la gara di prima le esplosioni ci sono state allora adesso abbiamo il passaggio e praticamente si arriviamo ora nell'altro imbuto con con questo con questo turbo con questa rampa vai vola arriva nell'imbuto ok perfetto intanto giro l'auto ok vediamo un po' mamma mi è caduta malissimo qui comunque c'è il teletrasporto altro teletrasporto e altro checkpoint ok perfetto quindi niente alla fine si fa una parte e poi si vola dentro l'imbuto poi si fa un'altra parte e poi si vola di nuovo dentro l'imbuto quindi non so state care qua sono cioè non lo so ci sono parti ripetute ormai comunque succede spesso nell'area di gta di avere delle delle parti ripetute ragazzi diciamo che onestamente bisogna anche dire che i creatori cos'altro si devono inventare cioè ormai dopo tutto questo tempo vediamo se qua la salvo ok perfetto no invece no invece si invece si ok perfetto l'abbiamo salvata dopo tutto questo tempo ragazzi effettivamente diciamo cosa cosa vuoi mettere di nuovo cioè non non lo so non lo so effettivamente è un po' è un po' complicato che l'auto l'ho recuperata e ora vediamo un po' vediamo un po' qui prendiamo il checkpoint perfetto e ora si sale sopra andiamo col turbo vai mamma mia questa auto non ce la fa ragazzi non ce la fa guidabilità veramente difficile ok perfetto ok qui abbiamo un altro imbuto questa volta più cioè non si entra proprio saltando da sopra come gli altri ma cioè si saltando da sopra si però un po' meno rispetto un po' meno rispetto io siamo più tipo vicini cioè qui non si vede ok un po' sorpresa l'entrata e qui non c'è non c'è il teletrasporto quindi vediamo cadi bene perché sennò potremmo esplodere e si vuole direttamente dentro l'altro imbuto vediamo oh ok l'ho un po' recuperata non non saltare in aria ok perfetto ragazzi mamma mia un po' un po' complicato l'auto è ingestibile proprio eh vedete ha fatto una curva assurda allora vediamo un po' perché qui abbiamo il rallentamento ah ma abbiamo il traguardo già non l'avevo visto non l'avevo visto c'è il traguardo ragazzi dopo la mina sicuramente alla fine dell'altro imbuto quindi con calma superiamo adesso la mina qua ok e voliamo vola dentro l'altro imbuto che c'è direttamente il traguardo ed è chiuso ragazzi ok perfetto perfetto abbiamo concluso in prima posizione c'erano delle taniche alla fine quindi evidentemente non lo so queste gare sono sono state un po' esplosive ragazzi cioè nella gara di prima siamo saltati tutti in aria all'inizio poi c'è stata un'altra esplosione con le mine qui ora c'era prima un razzo piazzato diciamo in una in una piattaforma poi c'era adesso la mina e alla fine c'erano le taniche esplosive al traguardo che io non ho preso qualcuno sicuramente riuscirà riuscirà a prendere non lo so ragazzi comunque dire spero che il video vi sia piaciuto vi ho portato due gare assolutamente particolari due gare parkour belle dal mio punto di vista diciamo che qui sinceramente almeno in questa gara qui avrei preferito un'altra auto dico la verità questa qui era inguidabile però comunque assolutamente belle gare io spero che il video vi sia piaciuto qui da extra lasciate un bel mi piace e ci vediamo nel prossimo video